Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo Giovanni disse a Gesù Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse Non glielo impedite perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo anziché con i due piedi essere gettato nella genna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo anziché con due occhi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. La pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci presenta gli apostoli che sono in un atteggiamento di apparente scontro con Gesù, Maestro. Abbiamo visto che vi erano persone che scacciavano i demoni nel tuo nome, non appartengono al nostro giro, al nostro gruppo. Ecco, la tentazione di escludere, la tentazione di annunciare il Vangelo soltanto ai vicini è una tentazione che ricorre sempre in ogni comunità cristiana. Il Cristo ci chiede di compiere un percorso di conversione, ovvero dovremmo passare da sentirci bene tra di noi, tra credenti in Gesù, a stare bene tra di noi, a una Chiesa che ha il coraggio della missione. Il mondo odierno non conosce più Dio, il mondo d'oggi non sa più nemmeno parlare di Dio, non possiede forse più nemmeno quelle categorie per poter incominciare un discorso logico e un ragionamento su Dio. Allora occorre che noi cristiani impariamo un nuovo ABC, un nuovo abecedario per testimoniare, annunciare, per rendere comprensibile il messaggio di Cristo. Aprire, spalancare le porte delle nostre comunità. Le nostre parrocchie non possono più essere soltanto un luogo di attracco, dove le persone arrivano e chiedono un servizio, in maniera forse superficiale, chiamo a volte le nostre comunità, le nostre parrocchie, i supermercati dei sacramenti, dove i cristiani vengono a chiedere dei servizi religiosi, ma le nostre comunità sono cellule missionarie, sono luoghi in cui si parte. Pensate al bellissimo invito finale della Messa, Ite Missa Est, andate, la missione è, si compie la missione e si compie attraverso di noi, attraverso il nostro impegno, tocca a noi portare Cristo, del quale ci siamo nutriti, alle persone che incontriamo, ebbene ecco che la missione di Gesù parte proprio dalla comunità dei credenti, dalla parrocchia, dalla nostra comunità di riferimento. E le nostre comunità, le nostre parrocchie sono proprio come la tenda nel deserto, che viene montata la notte, ma serve per passare appunto il periodo difficile, del buio, e poi viene smontata per continuare il cammino. Quindi le nostre comunità sono un punto di riferimento, ma non la casa dove gli uomini pongono una loro dimora stabile, è luogo dove noi andiamo per nutrirci, per formarci, per incontrarci, ma poi di lì per partire in missione lungo il cammino. Ebbene, gli apostoli rimprovanono Gesù del fatto che vi sono alcuni che nel suo nome scacciano i demoni, il nome di Gesù. Intanto che cosa intende la cultura biblica per nome? Intende la persona, il nome di Dio e la sua persona. Quindi l'idea di persona, di personalità, anche la visione dell'uomo con una propria psicologia, con un proprio tratto peculiare, ecco che viene identificato nella Bibbia, nella scrittura come nome. Per cui ecco impegnare il nome di Dio in un giuramento, in un vincolo, è impegnare Dio stesso, parlare il nome di Dio come operano e vivono i profeti, vuol dire appunto parlare al suo posto, nella sua persona. Allora ecco che il nome di Gesù, invocare il nome di Gesù, la preghiera nel nome di Gesù diventa vivere nella persona di Cristo, vivere in quella relazione d'amore che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che il Cristo appunto ci dischiude. Vivere nell'amore richiede quindi un aggancio personale con la persona di Gesù Cristo. Che cos'è la preghiera cristiana? Non è una preghiera di annullamento di sé, ma è una preghiera di relazione dove anzi viene esaltato il rapporto tra l'io personale, tra noi che siamo in preghiera e Dio che è in dialogo con noi, anzi riconoscere che è Dio per primo che si mette in dialogo con l'uomo, che viene a cercare l'uomo e che si intrattiene con gli uomini. Allora la preghiera cristiana è riconoscere ed esaltare il primato di Dio come creatore, come Padre che ci ha inviato il suo Figlio e nello Spirito Santo rispondere a questa chiamata nel nome di Gesù, nella sua persona. Pensiamo al segno di croce, questa preghiera fondamentale fatta di parole, fatta di gesti, con il quale noi mettiamo tutta la nostra vita sotto il segno di Dio, nella sua persona, in relazione con un Dio che è amore, che è benedizione, un Dio che si è fatto carne e che è morto per noi ed è risuscitato. Allora invocare il nome di Gesù, invocare la sua presenza, prendere consapevolezza che siamo suoi, ecco la vita del credente, del cristiano in che cosa si può riassumere. E nel segno della croce vi è proprio delineato tutto il percorso, tutto il cammino del cristiano, l'origine che è quella di Dio, il suo percorso che è seguire Gesù, imitare lui soprattutto nella croce, nella sofferenza, nella fatica per risorgere con lui, è la missione, portare a tutti gli uomini il segno di Gesù, la sua croce, il Cristo. Per cui non possiamo essere noi motivo di scandalo, di inciampo, ma siamo chiamati a testimoniare Gesù con serenità. Pensiamo a quante volte noi stessi diventiamo un impedimento per gli altri a credere. Ebbene, tutto il nostro lavoro personale, tutto il cammino di testimonianza e di missione incomincia da rimuovere in noi tutto ciò che è di ostacolo al Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora davvero lasciamoci riconciliare con Dio e trasformiamo la nostra vita in un segno di croce con il quale chiediamo amore, perdono per noi e con il quale noi ci impegniamo a donare amore nel servizio, nella testimonianza, magari soprattutto nei confronti degli ultimi. Occhio, i poveri non sono coloro soltanto che hanno bisogno di un pane, di un tetto, di una casa, sono anche le tante persone che ogni giorno incontriamo che non hanno più punti di riferimento. Grazie a tutti!